Eccoci qua, benvenuti, benvenute YouTube per chi non ha capito un tube se vogliamo scherzare un po' su questi video oggi affronteremo un tema trasversale che è il metodo di studio è un tema appunto comune a più materie qui in particolare io vi darò dei consigli ve li ho già dati anche ma li ripeterò per quello che riguarda il materiale in vostro possesso ovviamente la parte più delicata sulla quale voi spesso mostrate maggiori difficoltà è quella dell'integrazione delle schede che io vi do che sono schede di approfondimento ma anche da una parte schede un po' più discorsive sui punti più importanti degli argomenti trattati con il testo del libro voi spesso vi buttate da una parte o dall'altra o appunto vi concentrate sullo studio delle schede pensando di risparmiare tempo oppure azione che forse vi è più congeniale e abituale rispetto agli anni passati vi concentrate soltanto sul libro purtroppo questa strategia non paga lo dimostra il modo in cui rispondete alle domande e c'è bisogno di lavorare su entrambi i materiali ma ancora di più se sono presenti dei video sono stati affrontati dei temi attraverso dei video con apposite schede di lavoro in cui si richiama anche lì l'attenzione sui concetti principali questi video fanno parte del programma da svolgere e sono verificati insieme alle altre informazioni quindi abbiamo detto il primo requisito è affrontare tutto il materiale in possesso e cercare di capire come le informazioni del libro e delle schede si incrocino quindi dove in parte ci sia una sovrabbondanza di informazione dove invece dall'altra sia opportuno assemblare e integrare le informazioni come vi ho già detto in un altro video è importante da una parte non aver paura di usare una struttura discorsiva dei periodi soprattutto nel momento in cui si fa riferimento a situazioni della vita quotidiana si fanno degli esempi dall'altra però è imprescindibile per alcuni temi e appunto per alcuni concetti ad operare ed imparare anche dal punto di vista solo mnemonico il lessico fondamentale per esplicare i concetti per rimanere sull'esempio dell'unità sulla disabilità menomazione, disabilità ed handicap sono dei concetti per cui è richiesta una definizione abbastanza precisa sulla quale è opportuno non improvvisare così pure andando avanti sulla disabilità intellettiva la definizione non può essere una brutta copia di quella sulla disabilità generica e non deve riciclare quella con qualche piccolo adattamento dall'altra appunto abbiamo detto bisogna essere anche e questa è l'ennesima l'ennesima precisazione bisogna essere in grado di dividere i piani di esposizione i piani concettuali legati al tema per esempio a proposito della disabilità una volta che io affronto il tema dei diversi modelli che si susseguono devo capire che nel momento in cui vado a parlare di cause della disabilità queste richiedono appunto una loro zona argomentativa e dispositiva specifica che non vanno confuse con i diversi tipi di danno anche qui spesso invece si assiste a parti della verifica in cui si inizia dando una definizione nel contempo si parla delle cause si inizia a parlare delle cause poi si continua a parlare ad aggiungere un altro pezzettino rispetto che ne so alla definizione di handicap e si passa a descrivere i diversi tipi di danno descrivere sempre accennare quindi risulta la struttura del compito la struttura della appunto della prova scritta risulta totalmente illegibile e soprattutto la cosa più importante spesso così io l'ho specificato in molti dei vostri giudizi spesso l'uso di verbi di un lessico di materia inappropriato e non preciso inficia quindi come posso dire annulla la validità dei concetti perché immediatamente nel momento in cui io parlo di una restrizione di una carenza ma anziché abbinarla al concetto di disabilità sto parlando di menomazione oppure sto facendo un riferimento ad un altro concetto i termini seppur presenti e parte dell'essico di disciplina diventano in quel contesto errati cioè non riescono a chiarire i temi oggetto di oggetto di esposizione e annullano la capacità del del testo di rispondere in maniera esaustiva quindi ripeto queste in parte sono istruzioni generiche che verranno chiarite poi di volta in volta per gli argomenti però il mio consiglio è relativamente ai temi più delicati di un'unità appunto abbiamo detto definizioni capacità di individuare le varie zone diciamo sotto aree tematiche di un argomento bisogna avere chiare le idee per cui se sto parlando delle cause della disabilità ho introdotto la disabilità ad un certo punto arrivo a parlare delle cause della disabilità ne faccio un elenco e ne do una breve descrizione in quella parte del testo mi dedico a questa esposizione basta senza altre emissioni per questo dico è sempre importante avere uno schema concettuale una mappa concettuale perché mi consente di fare questo lavoro da voi molto spesso e mentre sto scrivendo qualcosa mi ricordo che è un processo normale di per sé anche valido mi ricordo una informazione che è collegata che però che ne so riguarda il diverso tipo di danno sensoriale o il diverso tipo di danno della disabilità e mi interrompo e comincio a scrivere di quell'altra parte convinto che comunque saranno informazioni in più che sto dando però ripeto la struttura del testo rimane frammentaria e anzi spesso queste informazioni che io faccio entrare all'ultimo momento interrompono il filo e compromettono la leggibilità e la validità della risposta per cui concentrati concentrati e ricordiamoci e con questo termino questo video ricordiamoci che la valutazione non si basa sul numero di parole non è la sensazione che deve avere è ho scritto tre pagine quindi avrò risposto bene perché spesso l'uso di tante parole l'uso di parafrasi l'uso di esempi che si dilungano troppo o reiterare le stesse le stesse espressioni già usate ha semplicemente come conseguenza quella di indebolire il testo di renderlo meno leggibile e quindi inefficace spesso anche per per esempio i quesiti più complessi di questa verifica era sufficiente una pagina di foglio protocollo alcune di voi sono riuscite anche soltanto in una pagina a protocollo a rispondere in maniera soddisfacente perché erano chiari i concetti erano chiare le terminologie e nel momento in cui faccio riferimento a quei punti salienti parlo del parlo del concetto fondamentale che abbiamo ti abbiamo evidenziato il lavoro è finito bene buon lavoro e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti